Commissario De Paulis, finalmente i nastri trasportatori dovrebbero essere smantellati. È stato un percorso molto molto lungo, ci vuole raccontare molto brevemente qual è l'iter passato e quello che si dovrà fare ancora per arrivare al punto finale. Oggi è stata messa la parola fine a tutta una serie di discussioni, nel senso che diventa lo smantellamento dei nastri realizzabile in tempi brevi, visto che il protocollo d'intesa prevede i tempi di realizzazione, che sono particolarmente rapidi. Ovviamente dal punto di vista dello smantellamento dei nastri è una questione che risale a molti anni fa, nel senso che i nastri sono stati completati nel 2000 e mai collaudati e mai consegnati all'Asi, che era la stazione appaltante per conto della Cassa del Mezzogiorno, e ha risentito questa vicenda degli aspetti giudiziari che tutti conoscono. Ovviamente nel frattempo sono passati moltissimi anni, i nastri sono diventati non più obsoleti e non più utilizzabili. Questo è un accertamento che ha fatto fare il CdA dell'Asi, quindi è stata la premessa per lo smantellamento. Qual è l'importanza? Quella di consentire innanzitutto la realizzazione di un progetto sul raccordo ferroviario, che insiste nella zona proprio dei nastri trasportatori, e il collegamento alla piattaforma logistica dell'incoronata, dove c'è un progetto di 40 milioni di euro che sta andando avanti nella fase esecutiva. Questo collegamento è fondamentale per valorizzare gli aspetti della logistica, ovviamente. Adesso i tempi per smantellare effettivamente questi nastri, quali saranno? I tempi sono brevi, ripeto, sono tempi segnati, lo leggerà sicuramente sul protocollo d'intesa che è stato firmato, sono tempi brevi, entro dieci giorni già l'Asi consegnerà tutto all'autorità portuale, entro due mesi ci sarà la progettazione, entro i successivi otto mesi lo smantellamento. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.